Siamo Luca Sertori, sono uno degli amministratori nonché legale rappresentante di Altea, che è un'azienda, un marchio attivo ormai dal 1947 nell'ambito del tessile abbigliamento e ultimamente un marchio particolarmente posizionato nell'abbigliamento uomo di fascia medio-alta. Esportiamo praticamente in tutti i paesi del mondo. Lo strumento WebTop è uno strumento che noi conosciamo, forse siamo tra i primissimi ad averlo utilizzato, questo strumento di Sonical, col quale tra l'altro abbiamo fatto anche ormai nel lontano maggio del 2000 la prima automazione agenti in Italia nell'ambito tessile abbigliamento. Lo utilizziamo ormai da tantissimi anni, fin da quando praticamente è stato creato, come strumento sostanzialmente per la posta elettronica, per l'agenda, per i contatti. E nel tempo, su nostra richiesta e su proposta di Sonical, è diventato qualcosa di molto di più, perché negli anni si sono aggiunti tanti servizi che oggi rendono l'operatività quotidiana estremamente semplice, estremamente friendly. Si è appoggiato interamente nell'ambiente web, e quindi totalmente svincolato dai client, che quindi ha avuto un impatto minimo dal punto di vista della formazione e dell'informazione dal punto di vista dell'utilizzo quotidiano. Flessibilità, assolutamente flessibilità. WebTop, e soprattutto chi sta dietro al WebTop, cioè chi fa materialmente WebTop, si è sempre dimostrato all'altezza di quelle che sono le nostre esigenze, e le ha realizzate in pieno. E quindi non ho assolutamente motivo di dubitare che eventuali sviluppi futuri siano assolutamente fattibili, assolutamente integrabili in quella che è appunto la piattaforma. Non ho nessun dubbio da questo punto di vista. Riguarda l'organizzazione e la programmazione del nostro showroom di Milano, e tramite un servizio sostanzialmente di agenda un po' personalizzato, innanzitutto organizziamo gli spazi e organizziamo gli appuntamenti, e prenotiamo gli spazi a seconda dei clienti che devono fissare gli ordini nel showroom di Milano. Ma poi, tutto questo essendo condiviso dall'azienda e dallo showroom, abbiamo una piattaforma unica nel quale vedere, visualizzare e inserire determinate informazioni sul cliente. Automaticamente alla fissazione dell'appuntamento, gli mandiamo anche la conferma e il memo sull'appuntamento fissato, tutti dei servizi così carini, che fanno parte un po', diciamo così, della parte del back office commerciale, che rendono sostanzialmente l'esperienza del nostro cliente nel nostro showroom più gradevole, più organizzata e più produttiva. E questo è sicuramente un altro vantaggio che rende Altea, tra virgolette, più performante sul mercato nell'ambito delle vendite. Quindi direi che noi siamo assolutamente soddisfatti di questo prodotto e oggi ne godiamo anche di tutti i benefici.